Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video che non so come introdurvi perché è un po' dedicato alle news ma è anche una mod review State con me e vi spiegherò tutto Abbiamo parlato anche ultimamente spesso di tutti i mob vote e i buy one vote passati anche perché pure quest'anno ci sarà un mob vote al Minecraft Live 2023 Ehi ma lo sai che il Minecraft Live 2023 sarà il 15 ottobre che sarà una domenica e noi alle 18 saremo in live per seguire l'evento insieme? Come dici dove seguirlo? Vi lascio in descrizione il link anche per mettere già il promemoria dell'evento che è già settato Vi romperò le palle tutto un mese per ricordarvelo perché il 15 ottobre Minecraft Live ce lo seguiamo tutto quanto insieme e scopriremo insieme il tema della 1.21 Peraltro sul canale Live sono in live anche stasera alle 20.30 con la Survival e Lies of P Ma tornando a noi, alcuni dei vecchi buy one vote e forse anche mob vote potrebbero tornare nel futuro di Minecraft In particolar modo, vi linko anche nelle schede del video, abbiamo parlato del Desert Update con un possibile aggiornamento di deserto, savana e mesa utilizzando i buy one vote scartati perché hanno promesso che prima o dopo arriveranno comunque nel gioco Per quanto riguarda i mob scartati dai mob vote, invece, non è detto che arriveranno nel gioco ma è comunque già capitato che alcuni siano arrivati in seguito sotto forma di feature diverse Quindi, che cosa facciamo oggi? Tramite questa mod che si chiama Lost Features andremo a vedere tutte quelle feature che non sono arrivate in Minecraft ma che erano presenti nei mob vote e nei buy one vote perché potrebbero arrivare in futuro e potrebbero aiutarci a capire un po' di cose E partiamo subito dalla foresta di mangrovie qua dietro, anzi dalla palude perché se facciamo un bel time set night vediamo che la palude si riempie di lucciole Ora, queste lucciole probabilmente non arriveranno mai nel gioco avrebbero fatto una grandissima atmosfera effettivamente qua dentro sono molto carine e sì, beh, queste sono solamente un'idea scartata non dovrebbe arrivare comunque Ora invece ci troviamo all'interno di una città antica perché qui in mano ho un blocco che era stato inizialmente tiserato ed era presente in diversi concept della città antica del deep dark in generale e stiamo parlando della cosiddetta skulk joe un blocco trappola che dovrebbe far uscire dei tentacoli o comunque della dentatura skulk che intrappola il player o l'entità che passa sopra quindi andiamo a vedere come potrebbe funzionare perché è stato ricreato in questa mod e come avete visto appena ti avvicini escono questi denti che non ti intrappolano ma ti fanno del danno e peraltro del danno davvero niente male quindi questo blocco potrebbe arrivare nel gioco in realtà è un'altra di quelle feature che sembra scartate ma esattamente come era una feature scartata quella del calibrated skulk sensor che non è stata realmente scartata è stata rimandata alla 1.20 quindi questo blocco è da tenere d'occhio perché potrebbe arrivare in futuro inoltre se volete credere ai leak vi lascio anche il video che ho dedicato ai leak della 1.21 sempre nelle schede avevamo parlato di questo presunto leaker che aveva lasciato degli indizi un indizio poteva essere interpretabile anche come qualcosa di simile a questo blocco ovviamente aveva varie interpretazioni però non si sa mai mettiamo che fosse un vero leak mettiamo che parlasse esattamente di questo blocco è da tenere d'occhio perché potrebbe tornare e passiamo invece a un buy and vote queste feature devono arrivare per forza davvero nel gioco perché ce le hanno promesse anche se il bioma non è stato votato infatti tutto il concept relativo a questo bioma dovrebbe arrivare in futuro in minecraft e qui abbiamo l'upgrade della savana forse tra i vari buy and vote scartati quello più sostanzioso che avrebbe meritato uno spazio nel gioco innanzitutto abbiamo l'albero del baobab un albero con un suo tronco e un suo nuovo tipo di legno quindi se andiamo nel menu possiamo andare a cercare anche il sapling di baobab andiamo a prendere anche la bone meal e possiamo vedere come far crescere uno di questi alberi probabilmente il singolo sapling non farà nulla ma se ne mettiamo 4 possiamo far crescere la pianta di baobab eccola qui oltre ad avere un suo tipo di foglia che non è neanche così particolare il baobab ha tutto un suo set di legno che è la cosa più interessante e all'interno di questa mod il legno di baobab viene gestito in un modo particolare perché abbiamo un legno dalle tinte scure un po' desaturate il che lo rende interessante devo dire prendiamo tutte le cose importanti da vedere e andiamo a vedere che cosa hanno creato con il legno di baobab ovviamente nel caso di questo set si parla di qualcosa di totalmente di fantasia perché nessuno ha mai visto come saranno le assi di legno del baobab però devo dire che è un tipo di legno che potrebbe fare comodo potrebbe anche abbinarsi a diversi tipi di legno bello anche scortecciato questa sarebbe la sua porta molto strana devo dire e la trapdoor invece davvero molto interessante avevamo però un'altra novità nella savana ovvero il termitaio e qui ne abbiamo un esempio questo termitaio è composto da blocchi di terracotta e per come lo hanno realizzato secondo me abbiamo un esempio perfetto di come dovremmo immaginarci il termitaio in minecraft perché il termitaio sarebbe un blocco quindi appunto il nido delle termiti che è il tripudio della tripofobia ma a parte quello sembra un blocco di terracotta con dei buchi e quando il blocco è pieno di termiti abbiamo delle particelle attorno che vanno a simulare gli insetti se notate bene le particelle sono fatte di due pixel un po' come le famose lucciole e da vicino sono strane ma da lontano funzionano sembra davvero un blocco infestato e riempito da insetti non fa nulla apparentemente questo termitaio al momento ma ci sono delle idee interessanti innanzitutto questo termite spires una formazione diversa del termitaio con delle punte anziché un blocco squadrato e inoltre ci sarebbe un altro blocco che è chiamato termite core se non ricordo male termite nest core che è un blocco praticamente uguale agli altri ma quando siamo in presenza di questo blocco che è il cuore del nido il termitaio si può sviluppare in grandezza quindi se è presente questo blocco il termitaio può crescere da solo e quindi non lo so potremmo farmare blocchi di termiti per qualsivoglia ragione al momento nella mod sembra non essercene una nel buy on vote poi le termiti erano il pasto preferito degli struzzi quindi andiamo a vedere anche gli struzzi perché sono stati aggiunti al gioco ecco qui lo struzzo devo dire fatto tra l'altro molto bene non so se me lo aspetterei proprio così nel gioco finale ha forse il collo un po' troppo largo però devo dire che è molto interessante lo struzzo dovrebbe nascondere la testa sotto la sabbia anche se nella realtà non lo fanno e in questo caso gli struzzi possono essere fatti riprodurre con dei fiori anche se non credo proprio ci sarebbe mai una cosa di questo tipo quindi facciamoli riprodurre e abbiamo il mini struzzino appena nato sicuramente avrebbero e avranno quando li inseriranno un modo per avere il breeding ma non credo tramite fiori magari tramite un oggetto infestato dalle termiti non lo so qualcosa del genere e invece negli oceani questo è un fiume molto largo non è un oceano però ma faremo finta che sia un oceano negli oceani potrebbe esponare il barnacle che è questo mob scartato dal primo mob vote molto inquietante quindi è tipo una squid più pericolosa vediamo che cosa fa se mi metto anche in game mode questo mob si pensava potesse intrappolare le barche perché vedete mi ha attirato con la lingua e mi porta verso di sé quindi immaginate passare con la barca esce la lingua di questo coso ti attira nelle profondità e ti inizia a far danno sarebbe molto pericoloso e molto inquietante decisamente ben realizzato ovviamente introdurre questo mob vorrebbe dire rendere più pericolosi gli oceani cosa che magari non tutti gradirebbero ma che potrebbe avere un suo senso perché tolti droned che fanno poco niente gli oceani sono fin troppo pacifici e invece qui di fianco vediamo sponare una mobloom probabilmente una delle scelte peggiori di sempre e possiamo anche non rimpiangerla nel gioco è una mucca una sorta di mushroom infestata da fiori e teoricamente con la cesoia possiamo togliere i fiori e farla diventare appunto una mucca normale voi direte perché questo mob non lo so avrebbe dovuto aggiungere un nuovo tipo di fiore che in questo caso è sostituito dal dente di leone quindi non c'è magari avrebbero aggiunto una mucca per ogni tipo di fiore per ogni tipo di colore ma non so sarebbe stata davvero così utile e se nel caso di questa mod il deserto neanche qui ha avuto degli upgrade nelle bedlands perlomeno abbiamo l'aggiunta del piccolo cactus del fico d'india che in questo caso non sto trovando comunque quindi ce lo sponiamo noi ed eccolo qui si chiama bedlands cactus non ha un nome particolarissimo e credo debba sponare esatto solamente sulla sabbia quindi probabilmente la sabbia rossa possiamo unirlo in più pezzi avere delle parti fiorite farlo piegare creare forme contorcelo su se stesso per qualche strana ragione molto interessante con del buon potenziale anche per buildare immaginatelo con una texture si potrebbero fare delle travi orizzontali può funzionare con la bone meal no non funziona con la bone meal non so se lo avrebbero implementato così se lo implementeranno anzi in futuro così ma sarebbe decisamente interessante come cactus come pianta e ora ragazzi è il momento di piangere ma di piangere davvero perché vado a prendere un blocco di tuffo e vado a prendere una zucca e vado a prendere un blocco di rame perché ragazzi se noi mettiamo il blocco di tuffo e sopra la zucca otteniamo il tough golem lui che avrebbe meritato di esistere nel nostro mondo e che purtroppo non è mai stato aggiunto se gli lasciamo un blocco vediamo se lo raccoglie da solo no devo forse darglielo e invece lo raccoglie da solo guardate che bravo lui raccoglie i blocchi e li tiene in mano quindi diventa una sorta di piedistallo in questo caso credo che non sia in grado di fermarsi la mod mi sorprende invece fatta molto bene si è bloccato con il blocco in mano quindi è diventato effettivamente un piedistallo fisso e adesso è ripartito probabilmente ci dovrebbe essere una feature che permetta di scegliere quando può stare fermo e quando muoversi un'altra cosa interessante è la sua veste probabilmente dandogli dei blocchi di lana o dei tappeti avrebbe cambiato vestito diventando quindi uno di 16 versioni del mob di cui questo sarebbe quello con la lana rossa quindi grandissimo potenziale e poi abbiamo il copper golem per il copper golem abbiamo anche l'aggiunta del copper button che permette al golem di schiacciare il bottone quindi è un bottone che il golem può schiacciare e come lo schiaccerà questo bottone in maniera totalmente random quindi se noi mettiamo tre lampade e tre copper button che tra l'altro era anche un bel elemento di costruzione una roba in più buttalo via rispetto all'ally che non fa niente almeno avremmo avuto un bottone da usare nelle build non è il momento questo di incavolarmi torniamo a fare i seri blocco di rame zucca ed ecco il nostro copper golem che come vedete in maniera randomica va in giro e schiaccia i bottoni quindi oltre a essere un randomizer è anche un golem molto carino dava un utilizzo in più al rame e avevamo i bottoni ecco il copper golem il più grande rimpianto della community di minecraft si siamo sinceri non è così utile rispetto al tough golem che sarebbe stato molto più utile però comunque è sempre carino infatti golem un altro mob decisamente rimpianto è l'iceologer che in questo caso viene chiamato chillager ovvero l'unione di chill e illager nella visione originale questo mob sarebbe sponato nelle montagne nella mod invece spona all'interno dei raid e di che cosa si tratta si tratta di un illager vestito di blu che viene direttamente da minecraft dungeons peraltro e che ci tirava dei blocchi di ghiaccio quindi andiamo a metterci in survival facciamolo incazzare come vedete evoca dei blocchi di ghiaccio in aria potresti incazzarti ancora che ti si schiantano addosso e tu muori questi blocchi di ghiaccio sono un ghiaccio diverso che apparentemente non può essere raccolto ma credo possa essere almeno evocato quindi se noi andiamo a mettere ice chunk esatto possiamo evocare questi blocchi e farli cadere questi blocchi che in realtà è un ammasso di blocchi di dimensioni non idonei a minecraft ma comunque diciamo che è un'evocazione è un'entità non sono dei veri propri blocchi e infine l'altra variante al phantom oltre il barnacle che abbiamo già visto in realtà ci sarebbe anche il mostriciattolo che si nascondeva sotto la sabbia ma quello è stato aggiunto è diventato poi la grindstone perché era un mob in grado di mangiare gli oggetti e sputarli senza enchant che fu scartato ma poi hanno messo la grindstone che fa la stessa cosa quindi la feature è stata poi recuperata è stata ripresa l'altro mob alternativo al phantom è sicuramente il più rimpianto anche da questo punto di vista tanto che poi lo hanno messo in minecraft dungeons come mini boss perché si vede gli piaceva un bot e si sono pentiti di non averlo usato è overing inferno o wildfire quindi ha due nomi praticamente nella storia e wildfire è un mini boss blaze che sarebbe esponato nelle fortezze questo particolare blaze è circondato da scudi noi possiamo hittarlo danneggiandolo rimuovere questi scudi più rimuoviamo gli scudi e più danni lui può prendere però li rigenera apparentemente quindi proviamo a metterci in survival ora lui mi attaccherà mi farà malissimo perché ho fatto in tempo con lo spawn point sì perfetto perché avevo anche poca vita comunque come vedete lo attacchiamo possiamo rompere lo scudo e una volta rotti gli scudi lo possiamo danneggiare davvero e sperare di batterlo purtroppo come tutti i blaze è un po' stupidino e non sempre va a segno il suo colpo ma ha causato un incendio ovunque e questo è tutto per questa mod ma come dicevo all'inizio oltre a essere una mod questo video era anche una finestra su alcune feature che hanno scartato su alcune feature che arriveranno comunque in futuro o forse riprenderanno altre e ci dà un'idea del potenziale dei mob vote dato che andremo incontro a un altro mob vote anche quest'anno mi raccomando qualsiasi cosa sceglieremo pensate bene e non pensate alla figaggine del momento quanto più all'utilità del mob nel futuro del gioco dobbiamo far aggiungere qualcosa che a distanza di 1-2 anni sia ancora utile e non che si esaurisca subito nel giro di una partitella di mezz'ora vero sniffer bene detto questo noi ci vediamo stasera in live alle 20.30 il 15 ottobre con il minecraft live e domani con un nuovo video un saluto da Eren ciao a tutti